Tu, come fossi una bambola, non ti accorgi quando bianco, quando sono triste e stanca, Tu, pensi solo per te, bene, grazie a tutti, ci diamo appuntamento al prossimo video, mettete un like se non avete disponibilità economiche di un euro, anche se i barboni ce l'hanno, ad esempio, ma se voi non avete un euro neanche come i barboni, mettete almeno un like, almeno un like al video e iscrivetevi al canale, perché questo canale sta diventando veramente interessante. Iscrivetevi a questo canale YouTube, Veronica Pisano ha scritto anche in girillico, al canale YouTube di Maurizio Gascaldi e seguiteci sui vari social, ovviamente quelli ufficiali, perché sapete che io ho tanti profili Facebook che mi hanno rubato, attualmente ne ho solo uno, anche se mi piacerebbe aprirne anche un altro mio, però, insomma, guardate, si vede quando un profilo è autentico oppure è stato preso da un hacker, non c'è più bisogno che io ve lo ripeta in mille lingue, sembra poi che alcuni, proprio, anche se glielo spieghi, non capiscano, quindi bisogna aspettare che succeda pure a loro, perché loro capiscano, molte persone sono così, devono provarlo sulla propria pelle e capire, perché non lo so. Io, ad esempio, anche quando non mi era capitato, capivo se uno era hackerato, lo capivo, perché tendenzialmente taggano tutti su film porno, non film, come si chiamano, video porno, oppure foto, è normale che non sia io, è normale, perché se io ho sempre postato cose normali, diciamo, tra virgolette, normali cose mie, poi improvvisamente vedete un cambiamento così, è normale che sia un hacker, no? Ecco, quindi, sveglia, alcuni che si sveglino veramente, non faccio nomi, però, anche una cara amica, che saluto sempre, amica, una conoscente che saluto sempre, questa non ha proprio capito niente, infatti l'avevo lasciata, dopo che le avevo spiegato, appunto, che c'era un hacker e cosa, sembrava avesse capito, poi ad un certo punto mi ha detto, eh, ma mi ha mandato dei messaggi privati pornografi, ma se ti sto dicendo che non sono io! Ma, in certa gente, turratta, turratta significa, in sardo, non so, credo sia sardo, proprio che ce ne vuole prima che capiscano, eh! Allora, ci cantiamo la bambola!